Ecco, bimbezzi, vedi mamma come si è organizzata, tu stai dentro una scatturona, compresa la mia borsa, col gallo e la mia bimba che è buonissima, dentro ci sono tutti i bimbi. Purtroppo qui da un momento all'altro arrivano i cani e anche si è retintato, quindi mamma si è organizzata così, ma si è organizzata così per portarli fuori 11 bimbi tutti in una volta. Andiamo in su, pulcini, ciao piccolissimi, in viaggio.